Le risorse devono essere messe a terra in maniera intelligente ed efficace, a dirlo è Giuseppe Bruno, presidente del Consorzio della Città Essenziale, organizzazione che si occupa di educazione, socioassistenziale, cultura e turismo, inserimento e inclusione, e lo dice in riferimento alle risorse della Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che devono essere appostate sugli asili nido. Noi da sempre, non solo sul livello locale, ma anche sul livello nazionale, attraverso la nostra organizzazione conf cooperative, abbiamo rivendicato una necessità ovviamente di risorse per la gestione delle asili nido. altrimenti il rischio qual è? Di realizzare strutture anche in piccoli luoghi dove però i bambini non vi sono. Sarebbe più opportuno, come abbiamo spesso anche detto, e come rinnoviamo nel pensiero anche alla regione con la quale stiamo interloquendo, indirizzare quelle risorse economiche perché ci siano opportunità e accessibilità per tutti i bambini anche nei piccoli paesi. Alcuni comuni lo stanno già facendo in modo virtuoso. L'auspicio è che quelle risorse economiche che in questo momento sarebbero, come dire, escluse dall'attuazione siano, come dire, redistribuite sul tema della gestione delle risorse economiche per l'asili nido. Così come anche alcuni comuni, ad iniziare anche da alcuni di Matera, sta iniziando a mettere in moto. Tant'è che anche qui sollecitiamo le amministrazioni comunali a che quelle risorse economiche che vengono indirizzate tutte quante sul polo 0-6 anni, sulla fascia 0-6 anni e quindi sulla gestione perché c'è una grande domanda di servizio di assili nido, più che altro da un punto di vista anche di crescita educativa dei bambini e poi ovviamente anche di conciliazione della famiglia. L'interlocuzione con l'istituzione al momento, aggiunge, è buona, soprattutto con la regione basilicata dove esiste già un tavolo paritetico a più voci. Interessante nell'utilizzo dei soldi del PNRR, dice, è anche la coprogettazione. La riforma del terzo settore ha introdotto un elemento straordinario che mette insieme il pubblico e il privato in una collaborazione fattiva. Quando l'amministrazione comunale chiama al tavolo anche dei ragionamenti e della programmazione il terzo settore, la cooperazione sociale in questo caso, noi siamo sicuri che riusciamo a mettere a terra meglio quelle risorse economiche nell'interesse generale, come giusto che sia. Poi all'interno dell'interesse generale ci sono anche le opportunità di sviluppo per quel territorio.